Come ti chiami? Kenneth Kitson. Da dove vieni? Rino. E darai tutto te stesso a questo programma? Sì, signore. Mano destra, prego. Questa è guarita bene. Sensibilità diminuita? No. Non c'è niente che non faresti per questo paese. Hai la forza per fare quello che è necessario. Benvenuto nel programma. Jason Borner ha la punta dell'iceberg. Chi diavolo è? È un agente Outcome. È Threadstone senza contraddizioni. Non abbiamo mai visto valutazioni così. E' un agente. È un agente. Non è vero. Si vuoi cosa è un agente. È un agente. Non è vero. Non è vero. È un agente. Non è vero. È un agente. È un agente. Grazie a tutti.